Il vuoto nelle casse del comune di Napoli e la carenza di personale in municipio inducono il neoeletto sindaco Gaetano Manfredi alla prudenza. Accanto alla richiesta di interventi indirizzata al governo Draghi c'è anche l'ipotesi di un suo passo indietro per manifesta impossibilità ad operare. La presa di posizione del primo cittadino della capitale del Mezzogiorno va ben oltre i confini partenopei e si sposa con un altro allarme lanciato dal sindaco di Bari e presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani De Caro sullo stesso tenore dice De Caro senza assunzioni nei comuni non avremo le risorse del PNRR. Le posizioni emergono dal forum promosso dal quotidiano La Repubblica ma se le grandi città lamentano l'impossibilità a riscattarsi figurarsi i comuni delle aree interne sempre più spopolati e privi di personale geometri ingegneri, amministrativi, vigili urbani non c'è traccia di ricambi generazionali. I sindaci in Irpinia aprono e chiudono i cimiteri tanto per fare dei banali esempi rispetto alla carenza di personale. Non c'è chi progetta o è capace di ricevere i fondi del piano nazionale di resilienza e resistenza. Un allarme che in provincia di Avellino poche settimane fa è stato lanciato anche dal presidente Svimez Luca Bianchi. Se c'è un problema a Napoli figurarsi nei piccoli enti. Non basta scrivere sulla carta il 40% che per noi è anche troppo poco rispetto a quanto il mezzogiorno avrebbe bisogno. Però per realizzare almeno quel 40% serve un investimento adesso sulle competenze perché se no comuni piccoli come quelli di oggi hanno grandi difficoltà a fare progetti che riescano poi a attivare investimenti. E questo è un grande tema politico che va affrontato con centri di competenza territoriali che aiutino le amministrazioni a spendere. Se no parliamo solo di cabina di regia nazionale ma non seguiamo poi l'attuazione della risorsa. Grazie. 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 Grazie.